Il mio nome è Vittorio Lurchi, sono qui in fase di produttore di abiti sartoriali di un'azienda che rappresento, un'azienda nata 200 anni fa e trovo che questa siera sia importantissima per la qualità, per l'innovazione, per lo stile e credo che sia interessante frequentarla e raccontarla perché veramente l'Italia in questo settore rappresenta veramente, penso, il top, il top della fortuna.